benvenuti in un nuovo video commento con le finali del conclave oggi abbiamo la finale del torneo locale di Prato organizzato da Gamerot il regno dei giochi e che è stata giocata come notate un po' dalla location in un gastropub presso il Wallace gastropub per la precisione ringraziamo Massimo Giovannini di Gamerot che ci ha fatto le riprese e ci ha inviato il video oggi sono a commentare con Federico Dondoli e dunque parliamo dei nostri finalisti che intanto hanno già fatto setup abbiamo Mirko Pedrini sulla vostra sinistra con un Baratheon Fedeltà e Matteo Di Marzio sulla vostra destra Mirko Pedrini con Baratheon Fedeltà ovviamente sulla vostra sinistra Matteo Di Marzio con un Gregioi Fedeltà allora le riprese sono un po' di taglio quindi dobbiamo un attimino ingegnarci a capire cosa hanno setupato direi che il Gregioi ha una regina, una ascia, una nave, una nave che pompa e una torre e uno sconto e poi là in fondo c'è la carta, la fedeltà direi forse sì invece il Baratheon al gioco Serise, una un'altra regina un'altra regina, Serise che però, sì, è un'altra regina Raffili Forward e il coso che peschi quello lì sul predominio peschi l'armeria l'armeria non è il tavolo vero? no no anche perché sarebbe fuori con gli oli penso no perché sono 3, 6, 7, 8 no, no, deve essere uno sconto a 0 perché sono 3, 6 no, 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 dico ah, no, 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 è l'armeria è l'armeria sicuramente ok, ok, ok ok, perfetto quindi, niente, vediamo un po' nel frattempo hanno rivelato tutte e due una biga causa e il Gregioi set up mi viene a mar di male ora set up state fermi oddio, ha giocato, vabbè, una nave raziatrice il trono e ha giocato Theon Gregioi doppiato ok, ci siamo ci siamo arrivati e ha tenuto un oro invece il Baratheon ha contato gli oli e poi per il momento non è inquadrato non è inquadrato il Baratheon dall'estero in poi si chiamerà Vale comunque perché? è scritto qui Vale ah, giusto no, ma è in mezzo quello, è scritto in mezzo Vale eh, ma è verso comunque il Baratheon quindi lui è Vale nel frattempo ecco parte una simpatica Merisandre subito che tappa ascia sconto Merisandre praticamente l'ha fatto come azione sconta ancora e gioca con praticamente a 5 poi arriva no, beh mette sconto o meno che sconta vediamo un po' però parliamone quanto ho di Gregioi che partono al primo turno con l'assistant chair? beh, diciamo che adesso come adesso l'assistant chair mi sembra ne stiano giocando sempre 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 di più eh magari anche a discapito invece di eventi per esempio che fanno rimozioni giocano tutto sull'assistant chair visto che hanno potenziale comunque intanto è scesa bodyguard e un simpatico bastardo più palotta bastardo il simpatico bastardo un simpatico bastardo e tiene anche e anche il nostro il nostro no, il nostro Mirko tiene un oro comunque la bodyguard ha salvato Merisandre eh sì la bodyguard ha salvato well played sì adesso vediamo vabbè vediamo se intanto può comunque difendere però lui ricordiamo che può vincere la noppo lo stesso esatto però per intombare chi? Selise io selise la intomberei onestamente selise? sì prendere la noppo infatti lo fa è brutta prende due punti di la noppo e vediamo se intomba selise ecco hanno commesso un errore no ci sta ripensando hanno commesso un errore non si può intombare Melisandre no ma non la fa ha fatto? e invece sì ha piegato la carta a casa e ha scartato la bodyguard non si può fare no no erroraccio non è che ha fatto andare warning per i cregioi no basta partita passata io smetto di commentare ah sì perché fede giustamente sicuramente tu sei un esperto di questi errori a primo turno ricordiamo sì è vero è vero no comunque io non sono sicuro che sia andata così potrebbe essere anche che scusa è che la piegava a fa la carta a casa ma non ha piegato la carta a casa ha piegato la carta a casa la carta a casa è qua ha piegato la fedeltà e va bene ok ha piegato prima la assistant chair e poi la carta a casa ok allora forse l'ha fatto veramente nel caso è sbagliato perché ricordiamo infatti infatti sono tornati indietro sono tornati indietro perché si sono ricordati di come funziona esatto quindi è ritornata sulla assistant chair cioè è ritornata sulla carta a casa diciamo la fedeltà e adesso sta pensando se utilizzarla su un altro target infatti no hanno capito sono tornati indietro benissimo in tutto questo ha vinto la sportività ha vinto la sportività torna indietro si scarta la pelle niente praticamente è andata una crane normale sostanzialmente militare se ne è anche fregato se ne è fregato lui subisce militare si scatta una pelle di Theon adesso va in trigo lui difende pompa per non subire in trigo vince in difesa e potere la perde invece a questo punto però io mi domando perché non dominare ah no perché domina lo stesso perché giustamente la figli follower ok allora vediamo seconda trama comunque pronostico generale io sono per Baratheon perché normalmente Baratheon contro Greyjoy in questa situazione di solito a meno che Baratheon non sfighi normalmente è avvantaggiatissimo è avvantaggiatissimissimo oltretutto diciamo che sicuramente vedere anche giocando anche le bodyguard per difendersi i suoi sì il fatto della bodyguard è una cosa un po' inusuale è atipica l'ha salvato tantissimo l'ha salvato tantissimo sì perché comunque tappare uno diciamo che se vedeva invece quella bodyguard adesso non sappiamo a posto di cosa le mette ma diciamo che vedeva un altro evento per tappare è la stessa cosa forse anche meglio però vabbè eh ma magari eh sì ho capito che dici però anche perché non so a posto di cosa le metti capito rimetti a posto di eventi perché sì però gli slot gli slot sono 15 tendenzialmente ci butti milk of the pop tutte le terre forse non giochi milk e giochi le bodyguard non lo so è un po' strana come scelta queste inquadrature strette sono molto artistiche sono molto sì anche sul tappetino bello i dettagli sì mi piace che quello che riprende vuole eh ok allora trame interessanti allora zoom ok adesso vediamo le trame meglio il giocatore Greyjoy gioca una nuova trama che è fortissima per rimborsare gli attachment perfetto quindi perché così attiva sicuramente il system c'è e invece il giocatore sarà la coppa di Melisandre questo turno quanto scommetti vediamo vediamo magari gli tappa tutto perché intanto comunque Asher ha tappata con accuse sporche ricordiamo sì poi in tutto questo penso che ovviamente Matteo ha decidido di andare lui sconta mette giù scontino sì sto già giocando comunque sono bravissimi giocano velocissimi sono abbastanza veloci sì bravi ma tu verrà questo video ma abbastanza comunque sono andati avanti un po' evidentemente sono una partita combattuta beh comunque perché se vince Baratron diventa comunque lunga anche contro il video diventa comunque lunga a prescindere madonnino vabbè ok allora vediamo un attimo beh Baratron però Gregioi scusami mi sembra che non ha giocato niente ha giocato poco niente non lo scuola ok che bello abbiamo capito fa molto David Lynch queste inquadrature sì però vogliamo vedere l'azione Baratron ok torniamoci Baratron è arrivata una mucca gigantesca sì eh sì perché c'è già due navi l'omino come si chiama l'affogato ok vediamo un po' se riesce a tappare anche Theon allora intanto ho messo giù un altro sconto sconta di due e mette la spada mette la spada e piega Theon e mette la spada ah ok alla disperata ovviamente ha messo vabbè ha messo la spada però no non è disperata è molto sensata no nel senso certo comunque tra tutti i loro che poteva giocare era il peggio ovviamente no nel senso mettere la spada sullo minori vabbè che tanto al limite lo uccide io infatti lo avrei messo sai su chi su un tanto uguale torna in mano c'hai ragione tu non serve a niente giustamente è una bella scelta costo due tappo e basta sì ma anche comunque metterlo su un piccolotto infatti l'avrei messo su uno che moriva però capito invece che metterlo perché non mi ricordavo che comunque gli tornava in mano ma tanto così comunque nel frattempo scende una bella militare lui deve solo fare la difficoltà di difendere con due se lo ricorda il nostro Mirko sì non fanno come prima appara a muore qualcuno appara a muore semplicemente uno e quindi comunque tutta l'azione di 391 è stata sprecata sostanzialmente perché non ha attivato system certo eh lo so però che cosa devi fare non ci provi no ci provi sì però va bene ok gli avrei comunque rallentato ti attappavi avevi due constert ci state e la nave te li ha tappati ok ci puoi far poco comunque quantomeno lo costringe un po' in difesa sulla militare quantomeno ok vediamo vediamo un po' se decidi di fare anche un altro sfido se sta in difesa come prima per magari non subire l'intrigo piuttosto che altro l'intrigo l'intrigo comunque la perde sì volendo sì ovviamente se lo fa con se la fa con solo con un personaggio cosa che sta accadendo esatto attaccami l'isande da sola l'isande da sola però non capisco perché attaccami l'intrigo perché vuole vincere l'intrigo secondo me eh infatti sarà l'intrigo non è potere vero no sarà l'intrigo anche perché punti poteri io non ne vedo adesso su no le gioie quindi diciamo che è l'intrigo però però c'è un problema che facendo così non sta rischiando di perdere la dominas o comunque di non vincerla e vabbè è come un trade cioè lui dice tolgo una carta al grigioi e non pesco e non pesco io ci sta ci sta se sto fermo pesca lui una in più vuole giocare in riserva perché si sente più sicuro sì 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 boh dipende molto da cosa in mano però boh in effetti il barato non è forte quando gioca a conservativo però di carte da giocare ce ne ha perché c'ha la mano piena quindi non gli conviene neanche pescare se ci fai caso sì no è vero effettivamente probabilmente sono tornati gli attaccamenti in mano è già al limite sì sì è vero beh lui comunque difende tanto ahia però difendendo così anche ma no 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 ma no ragazzi scusatemi io sono intronato non avevo visto i tre oli ah sì la vinceva comunque la dominas scusatemi ha fatto benissimo ha fatto benissimo la vinceva comunque la dominas pesca anche probabilmente ok ottimo quindi diciamo che Mirko sta ottimamente conducendo la situazione è molto meglio di me ma l'altra parte col baratta non ci vuole poco io mi perdo sempre sì se è un mazzo che riesce a giocare anche Matteo ci può riuscire chiunque sì è vero Matteo chi? Puglia ha anche vinto no il campione il campione di Milano allora non direggiare non direggiare dai per favore minchia dai poverino cioè un ragazzo simpatico appunto poi è alto però non è che proprio si giocare a questo gioco va bene però vedi invece incastrando tutti i matchup contro Greyjoy ecco baratta è un po' la porta a casa eh sì quando si è trovato il finale con Greyjoy 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 ha detto sarà difficile arrivare nel frattempo comunque baratta non decide di scattarsi un nostro alla furia dalla mano visto che ne è pieno ha la mano piena è quella la carta peggiore che ha anche perché costa tanto e come al solito c'è poche economie sì per più che altro che contro Greyjoy non gli serve poi a così tanto effettivamente la nostra furia anche se Snow Winter eh però vediamo vediamo cos'è che rimane giù al nostro simpatico Greyjoy sicuramente tre personaggi cioè gli annegati Asha e Theon se non sbaglio sicuramente quelli rimangono mentre invece di qui rimarrebbe soltanto la nostra simpatica Merisande quindi che conta una bodyguard che conta una bodyguard però sta sempre di fatto che gli rimane monopersonaggio non è mai un granché però vediamo se cara un manzo vediamo se scende Bobby a cambiare le sorti della partita Bobby sì Robert Baratheon vediamo un attimo però si mette relativamente male per il Baratheon comunque qui sarà probabilmente spada non so però ha visto il Baratheon quanto ne ha approfittato bene che parte per primo questo mi sembra uno Stannis questo è Gendry non è Gendry ha ragione costa 4 sì dai è Gendry c'ha un nome cortissimo Gendry di nuovo bodyguard su Merisande giustamente sì io penso che sia Gendry anche se ovviamente i riflessi non ce lo fanno capire bene possiamo chiamare questa carta ignota vale anche lui tanto vale ok sta facendo due conti Mirko sta pensando a cosa tappare tanto ritorna il roller esatto ma io insomma tapperei ascia gioca spada che ti costa meno no può giocare spada su uno di quei che gli torna in mano e via può giocare fare i follower che torna in mano sì ma lo paga uno in più invece se giocava spada su uno che tornava in mano e lo pagava su due a me lo capire allora buttiamo gli gli occhi va bene no hai vista la pubblicità delle assicurazioni il primo modo per risparmiare è quello di non spendere mai i tuoi soldi va bene ok sono ranni sardento qui bisogna economizzare capito se no va bene nel frattempo non è sceso nient'altro per il nostro Mirko si sono dei soldi e passa si sono dei soldi adesso tornano su tutto quanto torna su lì c'è un pesce gatto davvero è sceso baffone non l'avremmo visto è perché partiva prima in Baratheon ah è partito prima Baratheon mentre si chiacchierava è arrivato perché ha fatto 3-6-1 Baratheon comodo ok va bene lui difende con un con un annegato che è abnorme va bene qui fa le sfide tanto sai che poi da là passerà praticamente come un caterpillar sopra di lui si dall'altro visto che c'è il nostro è la furia in mano sicuramente qualcosa difenderà con quei due ori no nel senso però vabbè tanto comunque c'è la nave no la nave non funziona come non funziona non fa contare la forza mi dicono che si funziona eh no che non funziona è più Baratheon vabbè Baratheon Baratheon butterà nella sfida con si ma non perde Anoppo quindi morirà si non perde Anoppo come fa a fare Anoppo i gregioi con ah no è vero non è il primo giocatore non è il primo giocatore no scusami non è il primo giocatore la nave non la può utilizzare perché non è il primo giocatore eh quello dicevo sono d'accordo quindi fa però comunque ecco questa sfida di Anoppo con il pesce la vince sicuro ah ok detta una cagata invece c'è il pesce eh sì c'è il pesce l'avremmo detto no io pensavo tutte e due perché ho detto però guarda guarda pesce potere vabbè tanto comunque alla fine che gli frega di prendergli a meno che allora mettiamola così se lui non ha marcia al muro la marcia la marcia la barriera ovviamente non gli frega di selezionare il kill adesso eh bisogna vedere cosa vuole giocare dopo adesso lui gli fa guarda vabbè io ah freghe sì ok butto dentro però è un forza 4 lui può pompare vince la sfida certo vediamo chi muore vabbè toglierà la bodyguard giusto toglierà la bodyguard ma lui ma comunque se non aveva la marcia questa soluzione non è male comunque gli ha tolto la taccia sì ma se faceva la militare col pesce gatto sono d'accordo la faceva Noppo la faceva Noppo e li ammazzava Romino Gendry e poi marcia se non ha la marcia non gli serveva niente così tutto sommato è meglio perché gli fa usare la bodyguard e adesso non c'è più l'attaccemento su Merisander vediamo oddio gli possono sempre mettere la spada la peggio però vabbè che sa che ha in mano comunque ragazzi ovviamente stiamo parlando proprio a ruota noi stiamo facendo tutto un metagame su quello che potrebbero fare con le carte che sappiamo che hanno in mano adesso magari torniamo a fare più commento sulle azioni della partita diciamo che le mosse che stanno facendo sono abbastanza lineari non hanno fatto no ma infatti sono mosse buone e noi alla fine stiamo commentando su quello che faremo noi ma un po' come penso anche voi quando guardate una partita non ci sono grandi sorprese grandi giocate no niente di praticamente strano anche nelle carte dei mazzi non ho visto cose strane onestamente invece sì ho visto l'enjudgment nei greggioi che di solito non si gioca io ultimamente l'ho visto l'ultimo torneo ho giocato contro cinque greggioi e ti dico che ogni tanto ogni tanto lo giocano e comunque ci sta più che altro lo giocano per proteggersi da tipo Targaryen hanno visto anche altre cose simpatiche sì piccate le lacrime qualche chilino diretto le lacrime eccetera non lo giocano spesso comunque effettivamente abbiamo visto le bodyguard di strano invece nel baratron come dicevamo e comunque ecco il greggioi gioca con il buffo e le trame winter ecco questo possiamo dire innanzitutto vabbè però qui parte una convocazione e dalla tappata parte una la piovra no? sì arriva la piovra arriva la piovra va bene è arrivato la rotina lui si cerca copia di Melisandre che così almeno la preserviamo mi sembra una buona idea mi servono una buona idea anche se io tutto sommato a questo punto una creme 2 la farei andare di militare normale cioè se non puoi cioè se non puoi fare altrimenti per forza in ogni caso adesso a meno che qui non smuca due o tre personaggi ma comunque anche fare una militare che in due ogni tanto ci sta anche se non fa il kill diretto c'ha almeno sei ori allora è dietro di punti comunque il nostro greggioi perché comunque ha tre punti insomma in tutto no chi sta andando per primo ah i greggioi è andato per primo non si conta nei soldi è brutto sulla fiducia diciamo tanto è scesa un'altra razziatrice tanto per essere sicuri che sfide a Nopoli vinciamo questa è la nave di Balon la vento nero ah questo è vento nero si uh vento nero ancora meglio così magari inizia a pescare qualcosa eh vabbè uno sconto è sceso e niente basta di qui invece beh ha 8 milioni di fili follower che pieno di intrigo data parte sa che che ce li ha quindi qualcosa li tapperà li tapperà boh ascia immagino si o il pesce il pesce non serve più a niente non è inverno adesso ah si ce devono essere più inverno ce devono essere più inverno si 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 e niente attenzione che basta anche che ce l'abbia il vostro avversario all'inverno che tanto è sufficiente di solito se giocherete le partite a due quantomeno anche perché le plot summer ancora sono pochissime quindi e voi sicuramente non ne giocate quindi se il vostro avversario gioca una trama inverno voi sicuramente o avete inverno o non avete inverno ma vi va bene vabbè la calma su western è l'unica che si gioca ora eh si infatti di estate si si perché è quella nuova che aumenta di 1 la forza dei personaggi visto che è stata abbastanza snobbata da tutti per il momento nel frattempo vediamo un po' l'azione del baratron perché ancora non sta sta pensando sta pensando non lo piasi beh insomma un free forward lo tirerai giù perché almeno uno glielo tappi eh ma poi avanzano tre ori vabbè ho capito cosa facciamo ah ecco consolidation of power consolidation intanto che oh gli tappa tutti gli stat guarda non basterà eh per non perdere una sfida però magari per non perderne due si ma l'ha piegata la carta a casa? si l'ha piegata forse ha pagato un oro no 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 l'ha piegata la carta a casa ma non si vede perché le inquadrature sono artistiche ok si 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 ecco adesso free forward beh direi che mamma mia azione ottima non basta probabilmente come no? no una delle due gliela vinciano per sicuro no forse no forse no forse no dipende come si impegna diciamo vediamo cosa gioca no allora decisamente no la militare ci sta chiedendo anche la finca beh no vabbè ha un ha un annegato che comunque è bello grosso mi dicono arriva l'annegato l'annegato è almeno non sei barra sette attacca attacca col pesci vendolo attacca sarà una potere o una militare? eh bella domanda adesso vediamo cosa succede se para con Melisandre è una potere se para con un figlio bastardo non lo sappiamo era una militare era una militare perché ok però sta difendendo a quattro lui può pompare non si impegna e perde non si impegna e perde crei in due e mi sa che moriranno quei due scemi piegati forse una coppia di Melisandre la togli vediamo non mi sembra una grande idea e infatti fa così l'ha fatto l'ha fatto l'ha fatto vedi la so lunga io nella Pina dei Morti c'è un nostro potere e adesso questo potere o si impegna veramente tappandosi tutto o dire che non lo può più vincere no si forse si no c'è la nave che toglie gli omini ah no non può neanche più vincere esattamente gliela dà a Noppo gliela dà a Noppo chissà quanti poteri è adesso eh vabbè ne ha chiamati quattro sicuramente con questo Noppo di potere 7 9 ecco bisogna vedere cosa ha fatto invece con la con la nave di Baron con l'avento nero lì può darsi che abbia chiamato potere eh perché non l'ho visto pescare francamente però no perché mi sembra ne aveva pochini prima però qui siamo tutto a livello speculativo no purtroppo l'immagine così ballerina non ci fa avere una visione dell'indinissime una visione completa ok comunque cosa è successo niente sono andati in Dominance che cosa ha fatto niente è andato in Dominance non ha attaccato il Baratel no mi sembra che non si è capito molto bene comunque si è fatto ha dominato sicuramente io ho capito che ha dominato il Baratel va bene quel che era l'importante che pescava chiamava punti ok comunque le cose non ci stanno mettendo bene c'è ancora ah mi sa che arriva Wildfire infatti eh i Wildfire e come risponderà il nostro simpatico Gregioi 771 mi sacrifico un personaggio 771 no no sto scherzando 422 422 piace anche a me la sto provando anch'io adesso nel Gregioi ovviamente perché comunque mi serve perché avendo il baffo ti serve una trama non la gioco con l'evento che mi fa gli alza che alza quanto è brutto sì anch'io non riesco a metterlo quindi niente quindi a volte non parti però Amen ci sta tanto comunque non ti serve partire con il baffo decisamente ti serve che rimanga in piedi è alto in questa situazione ecco vediamo e non è detto che rimanga in piedi perché anzi perché anzi il baffo è lord no il baffo non è lord no non è lord peccato è uomo di ferro ti posso dire però che comunque è interessante perché lo possiamo rianimare intanto scende Stannis vediamo se hai soldi anche per giocare la spada sembra di sì e quindi niente però decide di tappargli ascia vabbè ok si sente intrepido si sente intrepido dice vabbè Stannis non me lo chirli però insomma nel senso c'è lì quella simpatica quella simpatica Melisandre che è lì pronta per morire o alla peggio alla peggio dico io gli fai una crane 2 che gli spazi via Gendry con su due punti e il free forward probabilmente quindi insomma nel senso sì in effetti ci stava se piegava il pescivendolo la militare non gliela davano oppo io anzi io francamente gli lascerei la militare a crane 2 ti tieniti pure i due tuoi mucconi ma tagliti i gendri con i due punti e il free forward che si riazza tutti i turni non lo so oppure va bene sì vai dritto su Melisandre che sai che è in mano sicuramente un altro free forward quindi ti tapperà un altro turno ci sta anche questo discorso io ucciderei Melisandre tutta la vita no no ci sta adesso poi io non vedo bene quanti punti è però comunque che vai gli due punti di gendri e non fai chiamare un altro punto di gendri che chiamerà sicuramente non è così male però vabbè vediamo vediamo cosa fa è arrivato l'uomo che legge beh il lettore è una buona una buona uscita perché adesso gli farà anche pescare almeno una carta probabilmente di baffone che è unico almeno quella diciamo c'è da dire che come assorbe la militare questo turno il nostro simpatico il nostro simpatico Greyjoy di quartiere come assorbe uccidendosi è una soluzione tanto probabilmente non si riazzerà tutto uccidendosi Tyrion Theon uccidendosi baffone magari Consolidation no Sin in frames vabbè ma Sin in frames ok ha già tappato questo turno quindi va bene ok beh però ecco questo è bello che gli scordi però esatto il barattino ha fatto il nostro stesso ragionamento come la difende la militare questo turno morirà qualcuno quindi facciamo in modo che se muore qualcuno non torni mai più mai più mai più cioè quello che è morto non muore mai eh sì magari vedo un'altra copia del nostro simpatico capello bagnato capello bagnato vabbè ci sta pensando ma comunque alla fine si scatta gli scatta capelli bagnati e va bene dai fai stazione di sfida Mirko visto che tanto comunque la maia gli hai visto la male mon ami ma non vanno in contrasto il pescivendole tra l'iniziativa bassa no perché perché ti dici quando non parto per primo comunque c'ho il pescivendole esatto e non mi servono le navi ma non puoi giocare tutto su uno tutto sull'altro eh sì perché fai neccarle le pesce eh lo so potresti farlo ma diciamo che adesso come adesso per i gioi che vedo giocare ho visto anche giocati in giro veramente dell'iniziativa se ne sbattono abbastanza diciamo se ne sbattono più di prima perché l'unica carta veramente che hanno dentro per l'iniziativa l'unica è soltanto la nave perché comunque nessuno gioca più le strette della sì la nave razziatrice nessuno gioca più le strette della piovra non hai più bisogno e quindi comunque diciamo che non giocano più così tanto sull'iniziativa oddio hai ma la nave se non parti per primo si spegne sì certo la nave la razziatrice sono d'accordo anch'io però alla fine compensi cioè nel senso guarda è morto tion come ti dicevo è morto ah è tion non asha quindi comunque abbiamo sbagliato allora pensavo ad asha ah no no tu mi hai detto asha sì ti ho detto anche asha però ti ho detto anche tion scusa hai ragione ok vabbè comunque uno dei due era abbastanza scontato è morto sì anche perché adesso che c'è Stannis in gioco sì comunque razza due vediamo un po' intanto se ne passano altre sfide magari per cui mi sembra che abbia fatto solo militare ma io comunque non ha potere un intrigo a questo punto vabbè l'intrigo gli ha già visto la mano però ha un intrigo da fare gratis con Romino che si rialza cioè no perché no infatti io lo farei ah sì certo non so vedo che ci sta pensando però sta pensando se vince là o non vince la forza l'intrigo ma no non andrà con quattro persone di tappati vabbè ha anche senso stare a pensare se stare in difesa o meno cioè il Gregioi sale veloce sì 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 poi è una claim 2 quindi dice vabbè intanto comunque gli fa sta potere sta potere stanza sofferta no più che altro non è un altro che non insomma chiama ancora punti infatti io sono curioso di vedere cosa succederà con la militare di Baffone para ok ci sta qui da para e pompa no para sì para per vincere para per vincere sennò va su troppo e allora allora passa intrigo vedi ecco a diritto perché intrigo con questa non la capisco adesso intrigo con Melisandre che poi sarà un problema di alzare quando aveva quando passava tranquillo di fare i follower i figli followers che si rialzava da sola mistero c'è qualcosa che non capiamo forse gli sta lanciando un'esca gli dice io sono a fare i follower uccidimela con con la seggela vabbè adesso vabbè tutto forse è un errore no perché forse lui dà per scontato che comunque Melisandre morirà allora comunque non gli conterebbe per la dominos forse quello anche però comunque non è molto attacca baffo moretti vediamo allora militare tu dici seggiola crendua seggiola crendua io dico seggiola vabbè vediamo magari fa potere potere è che non vediamo i punti quindi sai che ci potrebbe stare anche quasi no c'è sei punti no non vediamo i punti magari vedi che ha chiamato due punti no vabbè forse ha chiamato per di ha chiamato di nave il doppio il doppianoppo però vediamo cosa sta succedendo non capisco non sta inquadrando il greggioi no devi inquadrare il campo greggioi devi farci vedere se in ginocchia cosa cosa decidi di fare su sta sfida che sfida era non so militare crendormale vedi ah sì perché adesso noi non rivediamo i punti del nostro simpatico amico Mirko Baratheon ma secondo me sono anche di più probabilmente tieni conto che adesso lui ne chiamava due ancora probabilmente dominava anzi sicuramente domina e in più chiamava appunto di gendry quindi sono altri due punti in dominos ah il Baratheon eh Baratheon se non gli toglieva gendry sì 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 e quindi capito per quello che io ti dico gli farà crendormale perché a me non muore sicuramente gendry e si rifora lui non gioca la marcia non gioca ecco vedi che non c'è la marcia e invece qua c'è lo schifato canto dell'estate ah hai visto vedi ne abbiamo parlato proprio poco fa e quindi niente vediamo questo canto dell'estate che oltretutto non farà vabbè no tanto non funzionava uguale tanto non funzionava uguale il nostro baffone ma comunque insomma diciamo aumenta la forza di uno dei nostri simpatici l'aveva messo contro Targaryen immagino ecco insomma nel senso o per avere tutti più grossi cioè Robert è ancora più grosso è ancora più grosso ti tappa ancora meglio dai da 17 va a 18 sì è una grandissima trovata però vabbè in tutto questo nel frattempo lui ovviamente ha rialzato baffone e ascia io avrei rialzato probabilmente invece lettore io ci tengo a dire che c'è un grande ritorno della della moglie di Victarion ma io io per esempio non la sto giocando in questo momento però più che altro che ti salvi con l'intrigo però vabbè no stavo pensando a quando era scomparsa è ancora lì da sì è lì dai tempi dal primo turno anzi devo dirti che da quando sono usciti i nuovi omini del Diobissare è uscita i nuovi preti del Diobissare è proprio uscita sparita da tutto direi ok vediamo un po' quindi vabbè da parte Grigioi niente è scesa Aranis 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 Stannis e niente di qui scende uno sconto nove poteri per i Grigioi sì sì comunque è facile vincere quando il tuo avversario non vede Robert Baratheon no vabbè insomma dai adesso Littlefinger pesca due secondo me comunque questo Stannis e questa Melisandre gli bastano adesso per adesso sconta di uno fa Fili Forward guarda sconta di due paga uno Fili Forward guarda Fili Forward vabbè questo lo sapevamo da prima sapevamo tappa ascia e cosa ci cosa gli spiega Grigioi non gli spiega niente gli spiega che insomma non c'è storia perché gli ha scartato l'intrigo la seconda nave razziatrice sì ma diciamo la verità cosa faceva cosa poteva ottenere nel senso veramente pochissimo cosa è andato a fare il torneo allora no ma nel senso in questa situazione cosa poteva riuscire a ottenere no guardate ragazzi cioè veramente o il Baratheon o sfiga veramente tanto oppure e non sta non sta avendo neanche troppa fortuna ma perché gli manca Bobby dici sì vabbè però visto Stannis adesso guarda che comunque con la combinazione col fatto che rialza solo due il nostro il nostro amico Grigioi diventa diventa sempre più complicata la situazione alla lunga e piccato che comunque non riescerà a intombagli ancora una volta penso non riuscirà ancora a intombagli Melisand adesso vediamo parte con eh sì ah questo è intelligente comunque gli parte di una sfida di intrigo potere perché così o gliela sianoppo oppure si deve tappare no ecco niente è un'idea del cazzo Max forse o era un'idea stupida la mia o comunque vabbè diciamo parte subito con la sfida importante che ovviamente sarà militare lo costringe a tapparsi due personaggi con militare ma no basta Stannis ah giusto perché non lo può rimuovere perché ah giusto è vero ma che stupido che sono e comunque ha una potere in tutto ciò e quindi non serviva nemmeno difendere con due in realtà no 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 aspetta no per non perderla sì perché comunque no lui sta difendendo con tre mamma mia quindi forza pari a 13 sì lui può rimuoverne uno lui ne rimuove uno e può pompare di non vediamo quante navi di sei nove contro nove ah beh allora sì allora può vincere ancora non è che la spadina di Stannis si dà no no gli dà solo fama solo fama e il rialzamento però a questo punto perché perché è successa questa cosa non lo so gli ha fatto vincere forse non aveva tre tre navi esploratrici cavolo e sono tre navi esploratrici cioè allora ha contato male cinque sei sette otto nove otto nove ne rimuoveva uno rimuoveva un quattro rimaneva nove e allora c'è qualcosa che non capiamo c'era anche lo sconticino no no l'aveva usato no lo scontro l'ha usato e allora ha contato male forse Matteo o forse vuole vincere l'intrigo o forse no 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 anche perché ricordiamo che quello Stanni si rimaneva piegato sì infatti no non ha proprio senso non si sa bene comunque ha passato adesso di qui è partita una militare lui a Noppo a Noppo e scatta una coppia di pesce di di baffi di pesce forse voleva vincere in difesa ma no non ha nessun senso questa cosa non ha nessun senso non ti arrabbiare però no no non mi arrabbio però insomma ha nessun senso adesso riazzano due vedi comunque ovviamente barato nel vantaggio con i personaggi in piedi maledetti fare i follower pesca perché comunque domina quindi vabbè succedono cose infatti vedi pesca no trama nuova comunque in tutto ciò allora vediamo un po' spacco la spada ok si allora no si tira per l'iniziativa si è confiscato da solo la spada eh sì sono la settima plot sono la settima e quindi e dall'altra parte invece è scesa una 501 per caso sì sì snowdander ecco interessante snowdander e quindi qui forse va greggioi perché non contano non contano non contano l'iniziativa della confiscation sì lui ha meno punti quindi sicuramente va lui 9 contro 12 interessante 9 contro 12 però non è tanto interessante no perché comunque lui al massimo può fare 3 punti di potere oh un euro è arrivato veronix non ci sono paragonics 4 punti di potere adesso diciamo e sì però non no però ragazzi può farne di più di sfida no probabilmente vediamo vediamo cosa gli tappa intanto il nostro simpatico se gli tappa ancora qualcosa perché adesso non è neanche detto non è troppo difficile statisticamente parlando beh però insomma 3 fighi follower sono andati 2 2 ok una spada è andata una visione è andata vediamo rimane un fighi follower una potenziale altra spada e altri 2 anche se lì si è andata tra l'altro ah se lì si è andata è vero vabbè insomma gli rimangono 3 forse 4 drop guarda quanto è bella quest'ascia sfocata in primo piano ascia sfocata ma vediamo tra l'altro anche le graffiature sulla sulla copertina della cioè sul davanti della bustina no era tipo il riverbero ah dici comunque questo tappetino è bellissimo quello con Stannis in versione di Genji Scan qui c'è il pesce di baffo un altro baffo che è tipo Tom Selleck da vecchio ha un sacco di baffuti si e beve certo e qua c'è Stannis l'unico vero re camera a me un po' si annoiava però diciamolo cioè stare fermi dice che son tre piedi no più che altro leggerlo a mano effettivamente io l'ho fatto un sacco un sacco un sacco di ruote come ben sai ed è pesante quindi massimo il mio omonimo massimo lo comprendo ovviamente e quindi infatti mi ha detto che sicuramente prossima volta cavalletto ok allora vediamo qua cosa sta succedendo ha piegato veronix ma in tutto questo è andato per caso Baratheon ah no no è andato il Greyjoy che non ha giocato niente ha giocato veronix ah giusto e gli era piegato scusate mi sono il discorso sui cavalletti che è un po' con cos'è che gli era piegato tra l'altro con la moglie di di Stannis ma non è una volta forse è tornata su The First 9 e non è mai rientrata ah ecco cosa si era successo esattamente come per l'altra tipa forse è tornata di si può essere però ha messo un attachment da due su cos'è un martello cosa può essere un martello è sicuramente un martello l'ha messo per non farsi intombare Melisandre si altra carta che non si vede spesso è il martello vabbè adesso non ho capito che azione è ha tappato qualcosa per fare qualcosa una militare gli ha intombato Littlefinger vabbè ha senso ha senso ok si giusto si ha fatto una militare a noppo con ascia che si è rialzata si e va bene gli ha intombato uno rosso gli ha intombato Littlefinger ci sta gli toglie no gli toglie tecone vabbè adesso però la potera noppo con fish whisk lo facciamo si quasi per forza potera noppo chiamerà un punto in più penso a sto punto per mettere pressione diciamo chissà a quanti punti va io secondo me l'accontatore se era 9 fare un oppo di militare forse è a 13 può essere anche a 14 no ah si doppio noppo doppio noppo di militare doppio noppo di potere ruba 1 può essere anche a 14 3 6 9 10 11 12 13 14 14 5 4 14 però di qua adesso deve ancora entrare a potere di qui siamo a 2 4 6 7 8 9 10 11 e quindi con gli anoppo temo potrebbe essere finita come fa a fare anoppo beh insomma nel senso dirai in piedi c'è solo un personaggio quindi 2 anoppo no c'è 2 personaggi si c'è la regina ah c'è anche la regina è vero beh allora sono non dimenticare il più 6 dato dalle navi 11 scusami è vero 11 ah no beh no giusto giusto potrebbe non passare in potere diciamo certo che comunque va tutto tappato insomma nel senso adesso vediamo il martello tra l'altro mi domando visto che non l'ho mai giocato penso praticamente aveva restrizioni sul no no quindi da più 1 e in ginocchio di quanto vinci e in ginocchio si da un intimide speciale diciamo si perché può inginocchiarne molteplici molteplici esatto nel frattempo parte quella che sembrerebbe un intrigo a forza 4 un intrigo a forza 4 para para ah no 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 ma siamo ancora in fase grigioia che fa lui l'intrigo a forza 2 si 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 vedi ha scartato barato non ha scartato ah parablocca si per sbagliare eh però adesso questa mi è sembrata un po' una situazione strana si chiama un apparato eh ha fatto ah guarda ha vinto ha vinto hai visto cosa è successo no cosa è successo ah maledizione ha vinto con il martello ecco qua adesso ti spiego lui ha fatto intrigo con la spacco il martello spacco il martello ti tappo ascia e quindi passo due sfide a noppo con il renon di di stannis e no però diciamo che doveva stare in difesa anche in intrigo si doveva stare in difesa anche in intrigo certo chissà che cosa stava dicendo quel tipo alla telecamera eh non lo sappiamo mai comunque allora pronostici rispettati Baratheon troppo superiore in uno scontro e non hanno visto grandissime no vabbè ha visto Melisandre subito però da primo turno che comunque gli ha fatto per contro della tappate sono scesi tutti i manzi che dovevano scendere tranne Baron non che avrebbe fatto troppa differenza da tappate aveva gli stat ma comunque sono stati tutti sempre tappati quindi Baron secondo me dovrebbe tornare il sigillo nel mazzo Greggio eh probabilmente a un certo punto io ne gioco ancora uno per dire però uno è un po' la situazione così eh lo so però sai è un problema sono sempre gli spazi allora il discorso è che pronostici rispettati direi niente di particolare giocate strane non abbiamo visto l'idea delle bodyguard nel mazzo Baratheon interessante vorrei capire a posto di cosa anche il martello onestamente l'ho visto pochissimo giocato in realtà però sì però quello ha molto senso sì no ma quello effettivamente ci può stare adesso ci sono anche altre alternative per esempio i nuovi attachment ubriaco che abbiamo visto nel nel quinto nel quinto chapter sì meglio comunque del nuovo motri secondo me però quello che si attaccia e il personaggio attacciato non può attaccare o difendere se lo fa deve scattare una carta ah quello no scusa quello non mi piace tu dici ubriaco ubriaco quando si rialza lo rimbassi lo scarti per ritappare gli personaggi costo zero anche a me piace soprattutto anche nei banner perché non è royal anche nei banner nei banner Baratheon sì così finalmente sai cosa portare perché dici devi portare 12 carte esatto Melisandre esatto Fairy Follower Sealing Flames e poi c'hai 3 carte e dici che cosa devo mettere ci metti loro che alla fine sono altri 3 effetti di tappaggio comunque visto che non puoi metterci gli eventi quelli royal e quindi va bene ok direi che possiamo chiudere qua è stato comunque un bel evento una partita abbastanza classica Greyjoy Baratheon tra l'altro ne rivedrete praticamente una molto simile nella finale di Milano dove però il Greyjoy non era fedeltà ma era Lord of the Crossing e quindi ne ripareremo e il Baratheon non era un Baratheon ma era Puglia ma sì va bene è vero anzi ma adesso se riusciamo la commenteremo insieme a lui che è il vincitore visto che è qua a Milano e niente vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo video ringraziamo ancora i ragazzi di Prato tutti quanti e quelli anche che sono andati a giocare lì visto che ho visto alcuni dei finalisti mi sembravano di fuori bravi ragazzi muovetevi che in Toscana gioca a poche persone tra l'altro vi ho fatto commentare qui dal più illustre toscano il più illustre toscano d'Italia d'Italia praticamente giocatore dopo Matteo Renzi praticamente perché gioca a Trono Matteo Renzi ottimo non lo so però è il previo va bene un saluto a tutti da Massimo ciao Cicci sono Federico ciao verico ciao verico ciao